Dopo giorni in cui l'Abruzzo ha navigato sulla soglia dei zero contagi, oggi si registrano sei nuovi casi di positività al covid-19 che fanno salire così il numero complessivo dei contagiati nella nostra regione a 3.298 da inizio emergenza. 27 sono le persone, meno uno rispetto a ieri, ricoverate in ospedale ma nessuna fortunatamente in terapia intensiva, mentre gli altri 129, meno tre rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare. Resta fermo a 464 il numero dei pazienti deceduti, 2.678 più 10 rispetto a ieri invece sono le persone dimesse o guarite, mentre 2.625 hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono negative a due test consecutivi. Dunque gli attualmente positivi in Abruzzo calcolati, sottraendo al totale complessivo dei positivi il numero dei dimessi e dei guariti e dei deceduti, è di 156 con una diminuzione di 4 unità rispetto a ieri. Del totale dei casi positivi 226 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più uno rispetto a ieri, 825 in provincia di Chieti, più quattro rispetto a ieri, 1587 in provincia di Pescara, meno uno rispetto a ieri per rettifica, 632 in provincia di Teramo, 26 sono di fuori regione, mentre per due casi non è indicata la provenienza.